L'Italia, uno dei principali paesi manufatturieri ed esportatori del mondo, affronta con slancio rinnovato gli obiettivi di proiezione e di internazionalizzazione nell'economia globale dopo un articolato percorso di riforme e con rinnovati segnali di fiducia sui mercati. Il Vietnam, autore di un impegno di modernizzazione e di liberalizzazione che interessa fra gli altri il commercio, gli investimenti, il sistema bancario e il mercato immobiliare, guarda l'integrazione nel mercato regionale e globale come ad una opportunità da non perdere. Insieme, Vietnam e Italia possono operare con efficacia nella comunità globale. Siamo in secondo luogo, come dicevo, anche responsabili per definire insieme l'orientamento e il ritmo da imprimere alla nostra collaborazione.